ciao e benvenute con un'altra piccola clip allora oggi andiamo a vedere le matite nei set natalizi di nabla queste sono le cupid arlov che sono perfette come matite come ombretto come base per gli ombretti per tutto ne abbiamo tre versioni inter set e ci sono dentro le matite classiche e le limited edition ma basta parlare andiamo ad aprirle e scopriamo insieme perché sono ancora chiusi lo vedete anche voi andiamo a vedere cosa possono contenere carino il l'accetto anche tipo da appendere all'albero marat carina allora primo set è questo ai ai simon sono proprio chiuse dentro ok quindi abbiamo la classica la black e poi due lizi limitati in questo caso silver moon e arlov shine si chiamano portate pazienza perché qua leggere everglue allora ve le faccio vedere tutte tanto comunque le usiamo tutte per chi non ce la ricordasse queste matite hanno da questa parte il temperino per fare sempre la punta ed è la punta a punta perfetto allora andiamo a vedere intanto questa è la la facciamo di qua non facciamo di là non sono più comoda con la destra scusate allora questa è la nera classica molto molto bella la conosciamo io la uso tanto anche come eyeliner da sfumare e poi dopo oppure come matita questa qui si chiama e la everglue andiamo a vedere stupenda guardate che bella no vabbè molto bella molto molto bella e finiamo con questa che è la silver moon anche questa è molto bella preferisco questa ma anche questa è molto bella anche solo da sola molto molto belle questo primo set ci piace molto andiamo avanti e cosa dite andiamo con questo questo è il opal nude e andiamo a vedere immagino che sia sempre eccolo diciamo così così ci ricordiamo l'opal nude abbiamo la classica che questo in questo caso brown e poi e poi intanto le andiamo ad aprire anche perché si legge meglio da loro piuttosto che nella scatola comunque sono sempre altri due e the shine questo l'opal nude e questo è il mirror un attimo che li apro ed eccoci qui allora questa è la brown marrone classica ed è una delle mie preferite devo dire più chiara del nero però comunque sia molto valida poi andiamo a vedere queste che sono edizioni limitate allora questa è la mirror ma che bella ma che bella ma se io andassi sopra eh sì eh e questa è la opal nude allora è bella ma è molto pigmentata me l'aspettavo un po' meno pigmentata però questa da sola come ombretto è stupenda me l'aspettavo un po' più tipo questi con uno scuro e più due e luminosi bella me l'aspettavo diversa però bella interessante e finiamo con l'ultimo set che è questo e questo è il firework quindi ci potrebbe dare grandi aspettative andiamo ad aprirlo eccolo qui abbiamo maroon ma ce l'avevo questo di colore non mi ricordo non mi ricordo se questo colore l'avevo già e poi abbiamo nelle shiny il bewitched e flame come sempre vado ad aprirli perché devo scartabellare un bel po' vabbè forse viene abbastanza la veloce però la per non fargliela vedere tutto e non fare questo video è infinito ma ormai siamo qui e quindi apriamo anche questa e per finire apriamo anche questa eccoci siamo già qui eccoci allora partiamo con questa qui che è maroon la 7 secondo me non ce l'avevo non mi ricordo se ce l'avevo o no non me ne posso parlare perché non me ne ricordo questa secondo me no molto bella è un marone caldo rossastro non credo di averla mai provata ecco perché poi andiamo con queste che sono le shine questa è la flame da questo set questo qui immaginavo che era in più scure però questa è bewitched eh sì me l'aspettavo da questo set me l'aspettavo questi colori che oltretutto sono stupendi che c'è ed eccoci qui allora quale di questi set pensati di preferire il primo che è ice moon il secondo che è open nude oppure fireworks io sono molto indecisa il primo mi piace tantissimo ma anche il terzo niente male comunque sono set edizione limitata anche ottimi come idea regalo davvero molto molto belli voi cosa ne pensate? eccoci Grazie.